ed eccoci ragazzi ben tornati su Emanuele Paul di channel ti schietto che mi posso morire così soffrente vediamo come facciamo bene il retro game yeee no 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 muore muore ehm aspetta la radio aiuto sentiamo che non si sa potete capire ne sono i ragazzi e l'errore pancia e l'errore pancia no eh oh c'è l'errore pancia no 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 Oh no! Oh no! Hey! Over here boss! Oh no! Ok ragazzi, basta capire lo successivo. No, perché chiaramente già mi stavo stancando e non ne vedevo più. Nooo! Mi ha dato solamente cattile. Ehm... Ok... 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 Ehm... No... No... Oh... Oh no! Ok, va a farlozza! ZARE! A ver, ha a farlozza! È vero! È vero che devo fare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Over here! Come on! Over here! Come on! E' un po' Non è possibile, non è possibile. Ah, c'è vero. Ah, ok. E arrivare a nuovo intendo. oi ok 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 mmmm ah ah adesso non so ver tutto Bene, ragazzi, alla prossima